A Diamante, una cittadina calabrese di poco più di 5.000 abitanti, è in corso l'astraordinaria Kermess del Peperoncino Festival 2015, giunto alla 23esima edizione. È un appuntamento ormai consolidato nel tempo, da 23 anni di attività promossi dall'Accademia Italiana del Peperoncino. Il Peperoncino ormai caratterizza la realtà della cittadina, per cui non bastava un'associazione ma occorreva una vera accademia con 80 delegazioni in tutta Italia. Il Peperoncino si studia, si assaggia in tutte le sue specie e varietà, che secondo gli studiosi, botanici, biologi, eccetera, sono circa 250. Il Festival è una grande festa che dura 5 giorni, 5 giorni di puro divertimento e di allegria. Il Festival è iniziato il 9 settembre e si concluderà il 13. La delegazione di Sulmona, Valle Peligna, guidata dal presidente Domenico Santa Croce, noto imprenditore alberghiero e leader nel campo della ristorazione, è in partenza per Diamante, dove parteciperà al Festival e sarà di supporto all'organizzazione della chermesse. La delegazione incontrerà i membri del Comitato Promotore dell'Accademia Italiana del Peperoncino, preseduto da Enzo Monaco, che è recentemente stato a Sulmona per incontrare la delegazione sulmonese e presentare il suo libro, Peperoncino, amore mio. Intanto nella giornata inaugurale, il 9 settembre, le 23 candeline della grande torta sono state spente da Gianni Pellegrino, noto attore calabrese, il quale, nominato da sempre Re Peperoncino, ha fatto gli onori di casa. Re Peperoncino è ovunque, la sua voce potente, possente, si sente in ogni angolo della città, popolo piccante, ah ah! Il lungomare ed il lungofiume brulicano di stand gastronomici e di prodotti tipici locali. Il Peperoncino è ovunque, in tutte le sue specie, è cucinato in tutte le pietanze, perfino nei dolci, nei ristorantini deliziosi, improvvisati all'aperto. Nelle cinque giornate dedicate a sua maestà il Peperoncino Festival è ancora una volta un mix intelligente di gastronomia e di cultura. Il punto di partenza è sempre la gastronomia, subito seguita ci sono convegni, le tavole rotonde, le mostre, il cinema, la satira, il cabaret, gli spettacoli di strada, la musica e il folklore. Tutto per la strada, tutto rigorosamente, senza biglietto di ingresso, tutto ispirato al concetto di piccante, che metaforicamente significa anche trasgressione, erotico, divertente e fuori dall'ordinario. Tutti per strade e tutti protagonisti in cinque giornate di allegria, assoluta allegria. Tutti coinvolti nel gioco della festa, tutti inebriati dalla presenza di sua maestà, Peperoncino, che in piazza si concede ai cissuti di più fedeli per il vacanziere di settembre, una splendida giornata, dopo la mattinata, spiagge liberi con il clima più dolce dell'anno, oppure mille escursioni in riva al mare, la serata però sul lungomare, nel centro storico e nel teatro dei ruderi, musica, cabaret, menu afrodisiaci, mostre, film e convegni, divertimento assoluto, garantito e d'allegria oltre centomila i visitatori.